Buongiorno a tutti, eccoci qua a 7 e 10, mercoledì 25 settembre, pronti con una nuova puntata di Good Morning Milano, pronti con i giornali davanti, pronti ad avere qui i nostri ospiti nella seconda ora di trasmissione, pronti soprattutto a ricevere i vostri whatsapp al 3317853555, prontissimi a condividere con voi la mattinata e come sempre grazie mille di farci entrare nella vostra routine maturale. Siamo il vostro mascara sugli occhi, siamo i vostri cereali nel latte, siamo il vostro vicino di tram con la scella puzzolente, siamo tutto quello che volete, dipende da dove voi siete, noi siamo lì con voi. Devo dire che coniugare i verbi alle 7 e 11 del mattino a volte mi viene proprio facile e facile, ne parlavamo fuori onda poco fa, quanto prima bisogna svegliarsi per essere pronti e dinamici e rodati alla giornata? Voi cosa fate? Cioè tipo iniziate alle 8, a che ora vi svegliate al netto del trasporto, del commute, come si dice, dalla casa vostra al lavoro? A che ora vi svegliate? Dovete iniziare lo smart working alle 8 e mezza? Vi svegliate alle 8 e 28? Oppure fate un'ora prima, fate meditazione, yoga, shatsu, tai chi, quello che volete? Raccontatecelo, 331-78-535-555. È un mercoledì, siamo a cavallo della settimana, ancora tanti giorni da passare insieme, ancora tanta musica da ascoltare, sempre qui su Crystal Radio. Kate Bush con Running Up That Hill, insomma tutti, ormai c'è poco da fare, siamo legati a questa canzone per quella maledetta serie ormai, c'è poco da fare. Stranger Things, sì sì, ci viene in mente quello, dai c'è poco da fare, quando sentiamo questa canzone ovviamente pensiamo a quello. Grazie ai Whatsapp che stanno arrivando al 331-78-535-555, buongiorno Cristallini, Fabio e ragazze in redazione. E oggi siamo un po' a metà, a metà oggi, abbiamo metà della redazione che è malata, quindi dobbiamo andarci da fare Bea, dobbiamo andarci da fare comunque, riuscire a tenere botta. Comunque, siamo a metà settimana, dice Alberto in questo Whatsapp che ci arriva, voi siete del team, ah che bello, siamo a metà settimana oppure, no che palle, siamo ancora a metà settimana. Cioè qual è la cosa, Bea tu sei nel che palle siamo, no no, ah no, che bello siamo a metà settimana, fa capire quanto è contenta di venire quattro le mattine. Comunque va bene, dice ah che bello, mi mancano due giorni e poi non vedo più questo qua per almeno altri due giorni. Comunque, Alberto sveglia alle 6, prime faccende domestiche alle 7.30, lo sposta poveri ci attende, il Pullman. Eh sì, il Pullman lo porterà al lavoro, no complimenti già che insomma, prime faccende domestiche già fatte, complimenti, meglio di me che riesco ad alzarmi e trascinarmi in studio e basta. Poi dopo, nonostante cerchi di fare questa cosa e di svegliarmi presto, ho deciso, così, condivido un momento, casa di Fabio, dobbiamo trovare una sigla per i momenti, no, la routine di Fabio. Ho deciso che mi sveglio prima, adesso la mattina, no, mi sveglio 20 minuti prima della sveglia di com'era la scorsa stagione, per intenderci, no. Perché ho deciso di prendermi 20 minuti per me, no, 20 minuti in cui io in quella 20 minuti voglio prendermi del tempo per stare con me, con i miei pensieri, con la mia spiritualità. Metteteci quello che volete. Bene, sapete com'è finita? Che in realtà sto accasciato sul water in vista della sveglia delle sei e mezza, non riesco, non ce la faccio ancora, ci sto provando, prometto che ci sto provando, giorno per giorno proverò sempre di più a migliorare questa mia routine mattutina, ma per ora è stata fallimentare, cioè semplicemente ho cambiato posto per appoggiare la testa al muro del bagno, ecco, però prometto che ce la farò pian pianino ad aggiungere tasselli, anzi, se qualcuno di voi, questi che si svegliano così presto la mattina, io vi ringrazio, datemi qualche consiglio, come potrei rendere più interessante e intelligente anche e soprattutto la mia routine mattutina? Cioè cosa posso fare in quei 20 minuti che ho preso per anticipare la sveglia? Datemi qualche consiglio, sono ben accetti. Allora, Milano, vado a leggere da qui della sera Milano, appunto, a proposito, oggi giornali in forma ridotta su tutti i siti, cioè il sito ad esempio di Repubblica non si aggiornerà fino a domani, perché c'è lo sciopero dei giornalisti, ieri l'hanno fatto anche i giornalisti di Rai, ieri, insomma, quindi non l'altro ieri. Comunque, insomma, ci sono le varie sindacali che stanno scioperando e quindi Milano, il sito di Repubblica, ad esempio, non verrà aggiornato fino alle 23.59 del 26.09, causa sciopero, così c'è scritto proprio sulla testata di Repubblica appena si entra. Ma vado a leggere invece da qui della sera Milano una notizia che ci fa capire come il caro vita a Milano non si ferma mai, neanche dopo la morte. Perché, cosa è successo? A Milano sono state assegnate per 2,45 milioni di euro l'edicola Annoni al cimitero monumentale, sì, una tomba, è stata assegnata per 2.450.000 euro. Offerto, pensate, il quintuplo della base d'asta. Al secondo posto, per offerte, c'è l'edicola Frova, giudicata per 507.000 euro, e l'edicola Zappelli, che è stata concessa per 757.000 euro. Insomma, anche morire a Milano costa tanto, è questa la verità. Beh, sicuramente qui stiamo parlando della, insomma, è un po' come dire, la galleria Vittorio Emanuele delle tombe, c'è poco da fare, il monumentale è quello, cioè, è l'alit, il posto per eccellenza. Clem Bandit, insieme a Jess Glein, con Rather Be, qui alle 7 e 24 minuti, su Crystal Radio, Good Morning Milano. Allora, abbiamo detto che, appunto, anche da morti dovete pagare tantissimo per una tomba, no, in realtà, ti ripeto, non ci sono anche le tombe normali che costano, credo, in prezzo normale, diciamo, quasi come fosse l'edilizia residenziale pubblica. Ma, in questo caso, abbiamo parlato di come sono state messe all'asta e quindi assegnate le cappelle, anzi, le edicole del cimitero, alcune edicole del cimitero monumentale. E, vabbè, le dicole a Noni, che è una di quelle che c'è proprio quando entrate, principali, bellissima, altissima, è stata assegnata per 2 milioni e 450 mila euro. Insomma, un bel prezzo che vi prendete un bel appartamento a City Life, secondo me, tranquillamente, con quel prezzo. Ma, anche se, sempre nei giorni scorsi, è uscito, invece, uno studio di Asso Lombarda e Milano & Partners, che dà un po' il segnale, dà un po' la fotografia, lo scenario, insomma, di come è messa la città in questo momento. Lo studio, appunto, di Asso Lombarda e Milano & Partners, si confronta il capoluogo con le principali città, esaminando percezione, attrattività e performance economica. Bene, anzi, direi benissimo, il turismo, indietro, invece, la qualità della vita. Milano, appunto, così, in titolo a Corriere della Sera, dice Milano, cresce il PIL, ma i talenti scappano e le multinazionali non investono più come prima. Ma, e quindi, insomma, questo modello Milano, che era molto basato sugli investimenti dei multinazionali, sta rallentando. Cosa viene fuori, appunto, che ha comunque, abbiamo raggiunto comunque il più alto elevato tasso di crescita del PIL dal pre-Covid. Pensate, più 8,7% era a fine 2023. Siamo, però, a venticinquesima su 749 centri urbani. Siamo, comunque, una meta turistica di eventi sportivi, place for business, sede di innovazione. Insomma, Milano sta bene, così dice il Corriere della Sera, ma ci sono anche le immancabili ombre. Rallentano gli investimenti delle multinazionali ed emergono segnali d'allarme sui talenti e quindi, diciamo, non sono dettagli. Questa, appunto, è la quarta edizione del report Your Next Milano, fatto da Solombardo e Milano & Partners. Vi invito ad andare a dare un'occhiata, appunto, sul Corriere della Sera, che ci sono tutti, poi, sdocciolati i dati di questa ricerca, ad esempio, ma calcolate anche con dei parametri molto interessanti. Ad esempio, in merito alla popolarità su Google, Milano risulta ottava nella classifica con un recupero di popolarità post-Covid tra i più dinamici. Terza città dopo Parigi e Barcellona per quanto riguarda, appunto, la dinamicità. Ai vertici per popolarità si confermano, ovviamente, nel mondo New York, Londra e Parigi. In tema di investimenti diretti esteri, nel 2023 Milano ha attratto 49 nuove multinazionali estere, in calo, però, del 31,9%, quindi del 32%, rispetto al 2022. Quindi, interrompendo così il trend di forte crescita degli ultimi anni e tornando sul livello minimo del 2019. Quindi, insomma, le aziende vanno, le aziende tornano, le aziende vanno, le aziende tornano. In questo caso vanno, vediamo quando torneranno. Questo fa ancora sempre di più pensare, appunto, come i turisti, che sono praticamente quasi, quasi, intorno ai 10 milioni all'anno, diciamo che quest'anno forse potrebbero arrivare a 8 milioni con un leggero calo, ma comunque, insomma, sono sempre un bel numero di turisti sulla nostra città, sono, e abbiamo parlato anche ieri con Francesca Cucchiara, un oggetto, anche se è brutto da dire, però, insomma, di studio e di controllo, nel senso che dobbiamo capire bene cosa possono portare in più alla città tutti questi turisti, ma bisogna fare tutto questo senza pensare, però, a chi questa città la vive. Quindi, gli city user, i cittadini in primis, insomma, tutti quelli che vivono questa città, che invece vede, su certi indici, soprattutto per quanto riguarda la qualità della vita, una flessione abbastanza forte, diciamo così, dai. Cindy Lauper, Time After Time, la Crystal History delle... No, non era la Crystal History, pensavo fosse la Crystal History, è così bello che pensavo fosse la Crystal History, invece no, è tutto lavoro di Beia e dell'Ufficio Programmazione. Grazie mille, complimenti, bravo, bravissimi, bravissimi. E allora, andiamo avanti a leggere invece il Corriere della Sera, perché c'è un ritorno, finalmente, anzi, meno male, tra parentesi che si lega al tema di ieri degli studentati, perché da riformatorio a residenza, il nuovo studentato al Marchiondi, l'appello di sala all'università. Ci tengo anche a dire che non è mai stato veramente un riformatorio il Marchiondi, era un istituto per ragazzi in difficoltà, che avevano una situazione di complicazione, ma non era il fratello, il nonno del Beccaria, no, non era quella roba lì. Comunque, apertura prevista settembre 2028, quindi hociò ad essere entusiasti, ospiterà 167 studenti nel quartiere appunto di Baggio, investimento da 44,5 milioni, il sindaco dice questo patto con le università contro il caro affitti. Cos'era il Marchiondi? Ma no, la struttura si è stata progettata tra il 53 e il 57 dall'architetto Vittoriano Viganò, del suo legione da Corriere della Sera. Un tempo era dimita all'accoglienza dei giovani provenienti da contesti di disagio e svantaggio, che è quindi non era proprio... Dopo essere stata per anni in uno stato di abbandono, l'immobile è stato affidato appunto nel 2024, quindi quest'anno a Fondazione Collegio delle Università Milanesi, in comodato d'uso gratuito per 40 anni, con l'obiettivo di realizzarne una residenza. Con la trasformazione in studentato possiamo dire che, in un certo senso, la funzione educativa rimane, sottolinea appunto Stefano Bianco, direttore generale della Fondazione. Vorremmo però che si facesse un passo in avanti, che diventasse un luogo dove vivere in una comunità interculturale, che ci fosse uno scambio di competenze e passioni tra gli studenti che scelgono il Marchiondi, per citare appunto che si tratterà di un collegio di merito in cui sarà possibile accedere a borse di studio. La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre 21.000 metri quadrati, accoglierà prevalentemente studenti di facoltà legate alle arte figurative, musicali e performative, ma anche gli iscritti ai corsi non umanistici. Beh, quindi chiunque. Mi è piaciuto che quello, quello, ma anche gli altri. Vabbè, ok, questo mi piace perché non si può essere discriminanti, quindi avremo la precedenza, diciamo, quelli che arrivano dalle arti figurative, musicali e performative, ma poi potranno arrivare anche gli altri. Dopodiché, bellissimo, sono felicissimo, è una solita, bel rendering bellissimo. Rendering, ah, vabbè. Come facciamo i rendering noi a Milano? Non li fa nessuno, signora mia. Dopodiché, vabbè, sono 160 studenti su 190.000, quant'erano invece? 120.000 fuorisede. Bene, va bene. Però, vabbè, è un piccolo passo per la città, un grande passo per l'umanità. Vabbè, ne facciamo così, ok? No, lo so che sono un po' troppo, volte, cattivello su queste situazioni, però, insomma, 100... Non è che metto, ah, 2.000 studenti, no, 167. Quanto è che erano? Vediamo dove c'è scritto, sì. Vabbè, 167 studenti. Comunque, saranno fortunati. Speriamo che non dovranno pagare... Anzi, no, dice posti di studio, quindi, in teoria, ci dovrebbero essere le famose convenzioni di cui parliamo ieri. Insomma, staremo un attimino a vedere questa situazione. Il Marchiondi non è la prima volta che, si dice, sarebbe stato ripreso in mano e riportato alla città un paio di saloni del mobile fa, un paio di fuoristaloni fa. C'erano state già anche delle piccole performance all'interno del Marchiondi, che hanno detto location. Speriamo, appunto, che da lì poi si passa avanti, si va avanti, si va avanti, si va avanti. Adesso i lavori che dovrebbero iniziare in primavera e finalmente poi vedere nel 2028 arriveranno, vedere arrivare, vedere arrivare i 167 studenti appunto nel 2028. Noi siamo lì, eh. Baggio vi aspetta. David Bowie con Heroes. Sempre qui, Cristian Radio. Good morning, Milano. Torniamo sul tema Marchiondi, perché avevo letto, infatti, nell'articolo una frase che non riuscivo bene a capire. Vi leggo alla fine dell'articolo dove dice, appunto, che il costo complessivo sarà di 44,5 milioni di euro per sistemare lo studentato per 167 studenti, ma anche, tra gli altri, spazi in progettazione, ci sono una palestra, una biblioteca, una sartoria e sale destinata all'arte e alla musica. Quindi, adesso poi capiremo quanto quindi lo studentato è una percentuale di quello che verrà fatto all'interno di questo stabile, appunto, di questo Marchiondi che, ricordo sempre, lo diceva anche il nostro Walter Cherubini sempre e anche Adriana ci ha scritto un messaggio per questo. Il modellino del Marchiondi è in esposizione, almeno così si dice, al MoMA di New York. Quindi, insomma, non è un... perché? è una struttura architettonica pazzesca, bellissima. Dicevo, c'è una frase, però, a fine articolo, che dice quando i cantieri saranno aperti ci potranno essere alcune difficoltà, ma le supereremo. È un virgolettato della Presidente del Municipio 7, Silvia Fossati. E la trova una frase come dire, ma ovvio che i cantieri potranno dare dei problemi, cioè ci sta, nel senso, non vedo perché aggiungere questa frase. E appunto, Adriana, che credo vive a questo punto, che vive nel quartiere di Baggio, ci dice che, tra l'altro, il restauro del Marchiondi sta creando discussioni in quartiere, perché sembrerebbe, ma appunto, poi su questo, forse è questo che la Silvia Fossati, la Presidente del Municipio 7, stava dicendo, si rischia che durante i lavori debbano chiudere il centro di urno per disabili che c'è lì accanto. E infatti il Municipio ci sta lavorando. Credo che fosse questa appunto la frase virgolettata di Silvia Fossati. So che anche l'assessore Roberto Lamberto del Municipio 7 ci sta lavorando. Magari li sentiremo, vabbè, proprio un squillino, sentiamo e vediamo cosa ci dicono, perché appunto, bello, tutto bello, tutto bene, il rendering bellissimo, i studenti che arrivano molto bene per il quartiere che si anima di nuovi baggesi, però appunto, poi ci sono questi altri problemi. Sicuramente, immagino che per fortuna i lavori non inizieranno prima della primavera 2025, quindi il tempo, le modalità per poter capire se chiudere il centro di urno per i disabili e se mai spostarlo o se fare in modo che durante i lavori non si debba chiudere il centro di urno, insomma, c'è, il tempo c'è e credo che il virgolettato che adesso prende tutto un altro significato, quando i cantieri saranno aperti ci potranno essere alcune difficoltà, ma le supereremo, ecco, questo sicuramente è una promessa di Silvia Fossati molto interessante che andremo avanti a seguire la situazione, appunto, sentiremo anche il Municipio per capire un po' che cosa ha da dire in questione, comunque. Ah, Adriana ci scrive un messaggio, dice, puoi dirlo che sono una fiera baggese, ok? Bene, allora, ma io credo che non esistano baggesi non fieri, cioè, siete proprio, quelli di Baggio sono fieri di essere di Baggio, cioè, proprio, sono dei Baggio, sono di Baggio e sono fiero di essere di Baggio, quindi, complimenti, un saluto a Baggio, 331-78-53-555, è il nostro numero di Whatsapp, fate come Adriana, scriveteci, raccontateci, se voi, anche voi, siete fieri di essere, non so, come si chiamano quelli di Piola, Piolesi, non lo so, come si chiamano Piolesi, ad esempio, non lo so, siete quelli di Grattosoglio, che si chiamano Grattosi, non lo so, Grattosogliesi, come si chiamano, comunque, se siete fieri di essere di Afri, del vostro quartiere, o seppure magari, dice, oh, ma io sono di Afri, ma sai quanto mi piacerebbe essere di Trenno, che ne so, perché magari ti piacerebbe piacerebbe nascere da un'altra parte e vivere da un'altra parte, ma ecco, scriveteci a 331-78-535-555, il nostro numero di Whatsapp sempre pronto a darvi tutto lo spazio che volete, con audio, video, foto, quello che volete, scriveteci che noi siamo qui per condividere la mattinata insieme. Elodie Black Nirvana alle 7.50 sempre qui su Cristian Radio, Good Morning Milano, abbiamo parlato del Marchiondi, di come potrebbe diventare inizio lavori 2025, fine lavori 2028, anzi i primi studenti dovrebbero entrare proprio nell'anno 2028, ma non è l'unico cantiere in partenza o magari che è partito o magari che è stato fermato in quella zona, e sì, perché parliamo invece del Parco delle Cave. Le residenze LAC al Parco delle Cave restano sotto sequestro, il riesame riespinge il ricorso dei legali. Repubblica Milano lo dice, gli avvocati si erano posti al provvedimento del GIP dello scorso luglio, ma anche i giudici di appello danno ragione alla procura e confermano i sigilli al cantiere di via Cancano. Quindi ricorso è rispinto, le residenze LAC restano quindi sotto sequestro. Adesso palla ai giudici del riesame che dovranno confermare l'impianto accusatorio e rigettano quindi, la palla è già passata, sono stati quindi i giudici del riesame a confermare l'impianto accusatorio e hanno rigettato il corso dei legali di Nexity Milano Parco delle Cave investerelle che avevano impugnato il provvedimento. Mi piace che hanno messo il nome Parco delle Cave anche nella società, come per dire facciamo le cose fatte bene, no? E tanto che forse anche quello potrebbe far capire che insomma fare delle case dentro il Parco delle Cave praticamente è impossibile. Poi lo so che non è così perché non è proprio dentro, è ai confini, è ai margini, però non è proprio così perché se no non avrebbero sequestrato i cantieri. Insomma, se c'è tutto questo impianto accusatorio vuol dire che c'è qualcosa che è andato storto. la società quasi a sfregio di quello che in realtà dovrebbe essere un luogo di natura, un luogo preservato invece noi lo mettono nel nome di una società che costruirà delle palazzine. Vabbè, comunque la questura appunto scusa l'impianto accusatorio rimane quindi in piedi, la procura continua quindi a portare avanti la sua tesi e adesso bisogna quindi molto probabilmente avanti con l'iter giudiziario e poi staremo a vedere sta di fatto che in tutto questo le palazzine sono ferme lì, il cantiere è fermo lì e quindi anche lì poi effettivamente non so se è meno o peggio perché avevano già venduto sulla carta alcune case perché comunque il pacco delle cave è già stato deturpato perché comunque c'è il cantiere quindi ormai c'è ma cosa fai? Dici beh ormai c'è finitelo no, non va bene ormai c'è buttatolo giù e beh non è che puoi farlo buttare giù così anche perché poi costa la società ovviamente al momento dice cavolo che butto giù niente e quindi la situazione non è per niente facile ed ecco perché forse delle regole un po' più chiare su come costruire la nostra città forse servono in modo da far sì che non succedano altre situazioni come questa o anche ricordiamo le famose i famosi garage che poi sono diventati un palazzo di 12 piani all'interno di un cortile va bene comunque Milano non smette mai di darci sorprese l'ultima qual è? torniamo a parlare di stadio ebbene sì perché Milano niente finale di Champions League a San Siro nel 2027 la russa dice è responsabilità della giunta comunale giunta comunale non c'è scritto cosa dice ma dirà colpa di qualcun altro sicuramente le colpe qui si insomma è come un grande dribbling si dribbla tra le colpe ma sta di fatto che lo stop arriva dopo i dubbi sul futuro dello stadio il miazza resta un punto fermo per il 2032 così dicono alcuni con ConfCommercio invece dice per la finale di Champions League del 2027 abbiamo perso 34 milioni comunque su Corriere della Sera c'è tutto l'articolo andatevole a leggere e cercate di leggerlo magari prendergli qualche pastiglietta per lo stomaco perché vi giuro fa un po' venire l'acidità di stomaco come si dice in questi casi perché insomma perdere un'occasione del genere è davvero davvero un brutto brutto segno per la nostra città e se tutto questo è legato appunto come sembra poi che sia così davvero al dibattito infinito dietro il futuro di San Siro insomma sarebbe ora di trovare una soluzione prima che ci tolgono altre cose e poi dopo sono cavoli amari per tutti e questa è Irene Carcon Flashdance What a Feeling non si riesce a star fermi quando parte questa qui e questo è questo era il cristallistori delle otto lo sapete ogni punto ora una canzone dal passato che ha fatto la storia della musica e che in questo caso ha fatto anche ballare generazioni e generazioni e siamo arrivati alle otto e dieci minuti e quindi come sempre nella seconda parte di trasmissione arrivano gli ospiti quindi diamo il buongiorno a Diego Di Mauro e Alessandro Le Santis buongiorno buongiorno al secolo verrebbe da dire Just for Love anzi un pezzettino di Just for Love due dei fondatori due dei cofondatori appunto di Just for Love che che cos'è Just for Love è un un creative studio come su Instagram voi dite creative studio nato nel 2020 a Milano e quindi la domanda è cos'è un creative studio? Allora un creative studio almeno per noi è uno spazio fisico che abbiamo appunto in zona Via Le Certosa Milano e dove realizziamo progetti creativi di qualsiasi tipo per lo più nell'ambito sartoriale allestimenti e stampa serigrafica questi sono i tre grandi macro settori che tocchiamo Ma perché non ho detto quindi stilisti? Fammi capire perché non ho detto stilisti cioè visto che avete a che fare con l'ambito sartoriale avete fatto la moda infatti cos'è la differenza? Perché noi ci occupiamo sì di design ma anche di produzione in sé abbiamo sempre integrato le due cose per non tralasciare nella parte design anche quello che è tutto la manualità Esatto noi ci occupiamo sia dalla parte progettuale alla parte poi realizzativa concreta quindi tutto tutto il processo lo seguite fino appunto dal disegno immagino alla poi realizzazione pratica alla stampa in alcuni casi come dicevate e anche credo poi alla distribuzione diciamo di marketing social e così immagino perché poi c'è anche da quella parte lì anche in parte anche se sicuramente noi siamo molto più incentrati è una cosa che abbiamo ripreso molto sono tutte le tecniche artigianali comunque quindi in un periodo in cui l'arte è più digitale noi ci siamo rimessi un po' a far andare le mani quindi niente stampanti 3D o cose strane anzi figuriamoci che quando siamo nati puntavamo molto sull'autoapprendimento quindi era un discorso che era una base abbastanza solida di quello che eravamo all'inizio nel senso che per esempio sulla serigrafia che è la prima attività che abbiamo iniziato veramente in modo concreto figurati non in uno studio in Viale Certosa ma in una cantina quindi proprio venire dal basso quando si dice tutto nasce dal basso esattamente noi abbiamo imparato completamente in autonomia dal costruirci il telaio le matrici di stampa alle tecniche di stampa quale inchiostro andava bene come potevi stampare con quale tesatura mille questioni tecniche per il quale sbattendoci la testa poi abbiamo imparato quasi completamente in autonomia perché comunque il consiglio lo chiedi c'è sempre qualcuno disposto ad aiutarti che lo fa già e sì perché poi immagini appunto che come siete alla fine siete quasi un collettivo in un certo senso perché poi arriva gente si aggiunge vi contaminate tra di voi no? sì assolutamente comunque noi nasciamo come gruppo di amici in primis che durante il periodo del liceo inizia a farsi le domande che tutti gli adolescenti si fanno quindi cosa farò da grande noi ancora non l'abbiamo scoperto però nel mentre ci siamo adoperati abbiamo in primis come nostro gruppo e poi ecco il nostro piccolo network vi ho chiamato però quest'oggi perché partiamo da un articolo spesso partiamo dall'attualità da un articolo che abbiamo letto qualche settimana fa dove si parlava appunto della pulizia di certi murales in zona via Dino Compagni ma c'era scritto questo in Brattamuri un barlume di speranza in via Dino Compagni quando ho letto in Brattamuri ho detto oddio se fa se fa ribrezzo a me la scritta in Brattamuri chissà chi magari nel mondo delle graffite nel mondo della street art ci sta e quindi per questo vi ho chiamato e quindi dopo la prossima canzone mi dite qui com'è sta storia degli Imbrattamuri grazie 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 non dovevate tutti questi applausi non me lo merito grazie mille comunque dai questa è la frella mannoia quello che le donne non dicono invece quello che i writer non dicono potremmo dire questa mattina anzi quello che i writer dicono questa mattina appunto parliamo di questo tema allora questo articolo chiamava Imbrattamuri coloro che scrivono sui muri cioè io ho fatto un po' così ho fatto un sobbalzo io immagino vuoi leggere una cosa del genere sì più che altro quando conviene sono Imbrattamuri quando conviene è street art qualche giorno fa stessa praticamente testata articolo che diceva i murales che salveranno l'ambiente perché hanno fatto un murales che respira e salva l'ambiente quindi insomma giustamente dipende dal momento sì è un tema che si parla molto soprattutto in una città come Milano che la riqualifica all'ordine del giorno e ancora non si è capito qual è la direzione che vuole prendere il comune perché da un lato ci sono molte sponsorizzazioni quindi nel momento in cui la bomboletta viene utilizzata per fare una sponsor o una collaborazione con grandi partner che investono la street art ci piace poi quando bisogna andare a capire i meccanismi invece del writing dei graffiti che hanno sicuramente molte controversie ci si ferma a priori per la paura comunque di quello che è sporco confusionale sicuramente più underground di quello che è invece la street art fatta a fini commerciali Milano abbiamo avuto tutte le parti abbiamo avuto tutto quanto qua a Milano e spesso 20 anni fanno un po' punta di loro queste due realtà difficilmente riescono a convivere facilmente come nasce però appunto l'idea della street art sappiamo come nascono i graffiti è una storia lunga dovremmo andare nel passato e veramente parlare di secoli ormai quasi secoli fa ormai ma insomma a Milano c'è una grande cultura però della street art e dei graffiti sì assolutamente questo da una vita noi vi raccontiamo la nostra esperienza in particolare che è anche il nostro percorso formativo perché noi nasciamo come writer comunque persone appartenenti al mondo dei graffiti e sono state il nostro trampolino comunque per collegarci poi a tutto quello che è il mondo dell'arte e ci ha portato a quello che facciamo oggi sì trampolini o anche mezzo di distacco poi successivamente comunque graffiti e street art sono due cose diverse pur utilizzando gli stessi mezzi dal punto di vista operativo la bomboletta gli stencil più per street art che per graffiti e comunque appunto noi che venivamo da quel mondo di graffiti più graffiti meno street art comunque anche quello che abbiamo fatto che differenza c'è vedo che fai un discrimine street art e graffiti qual è la differenza sottile che io non riesco a cogliere ma che evidentemente è importante invece è una differenza nel senso che vabbè la street art molto spesso volentieri è legale è autorizzata ed è socialmente accettata perché quante volte ho sentito dire ma perché più che la scritta non mi fai un bel disegno ok quando spesso e volentieri la scritta e il bel disegno sono la stessa cosa la scritta è quello che ditemi se sbaglio spesso vengono chiamate tag quella roba lì o è anche altro no per lo più la tag è anche quella più odiata sicuramente ecco sui graffiti potremmo parlare tanto delle tag perché sono sicuramente quelle più disprezzate dal cittadino ma allo stesso tempo è un lavoro tipografico che è la visione più scomoda la tag perché spiegami è una cosa interessante perché diciamo solo chi la fa e solo chi è dentro quel mondo può capire da dove viene chi la fa perché la fa in quel modo e soprattutto l'apprezzamento della tag ok perché a una persona che piace questo discorso tipografico come diceva lui ci sono mille stili caratteri mille cose che poi te la fanno apprezzare quando una persona di cui alla fine non gli frega niente vuole vedere il bel disegno ti dice cos'è sto scarabocchio perché spesso l'entieri tag si dice essere la firma però non è solo la firma non è solo quello giusto è proprio il tuo nome c'è sicuramente un poi mi piace che lo critica gente che poi sono le magliette però c'è il nome dell'artista del brand del brand di alta moda che in realtà ha scritto con un time signor Roman mi viene da dire scusate di formazione professionale se vi piace la tipografia è tutto ricordate che siete in grande compagnia perché uno dei più grandi amanti della tipografia era Steve Jobs ad esempio lui era un grande amante della tipografia comunque dicevi è complicato capire dagli outsider di questo mondo è complicato capire la tag sia perché viene fatta e il come viene fatta mi interessa più il come per esempio io faccio grafica amo la tipografia amo la creazione dei caratteri al di fuori dei graffiti proprio a livello tipografico e di stampa e io mi guardo in giro per Milano e trovo tantissima ispirazione mi spiaggia se mi sento un po' preso così perché il nostro logo è fatto in elvetica quindi insomma so che è proprio il massimo della banalità possibile ma il concetto scusami che dice less is more ed elvetica è il carattere più bello che abbiamo mai fatto ok perfetto grazie salvati in corner Cristal Rando ci siamo salvati in corner dai no ma Cristal Rando ha un altro fondo comunque voi però da questa da questo amore appunto per la street art da questa provenienza dai graffiti che dicevamo essere molto più underground molto più anche spesso dire illegali comunque insomma navigano in una zona grigia avete poi fatto appunto un lavoro perché poi adesso invece il vostro just for love è a tutti gli effetti un lavoro oltre ad essere una bellissima espressione artistica culturale e anche però qualcosa di economico allora dopo vi chiedo come si fa a fare questo passaggio e come si fa a non essere i famosi venduti al capitalismo poi qua è il problema ecco come la musica indie poi fai un disco ecco adesso si è venduto alle major voi com'è che non avete fatto a non vendervi al grande dio del fashion come avete fatto un po' di musica e poi ce lo dicono loro Arista Elkon Later Talking 8 e 25 minuti Crystal Radio Good Morning Milano sempre qui 3317853555 il nostro modo di Whatsapp poi potete comunque rivedere e ascoltare tutto su goodmorning.milano.it siamo qua insieme a due dei cofondatori di Just for Love stiamo parlando di Diego Di Mauro e Alessandro De Santis stiamo parlando di street art di graffiti ma anche di come poi dall'underground si può passare a farlo diventare un vero e proprio mestiere quello che avete fatto voi a Just for Love come avete fatto e quante critiche avete ricevuto no fammi capire un po' come facciamo ancora tuttora perché comunque siamo dei giovanissimi e ancora la strada è lunga e le critiche ce ne sono state tante ma sinceramente abbiamo ricevuto sempre tanto supporto anche dall'underground anche perché vi chiamate Just for Love non Just for 8 quindi insomma sarebbe stato assolutamente ma comunque abbiamo estrapolato tutte le cose positive dai graffiti e abbiamo eliminato invece tutte le problematiche che ci sono come in in qualsiasi cosa nel mondo e quindi sicuramente ci hanno dato tanto abbiamo conosciuto tante persone in questi anni facendo i graffiti che ci hanno portato tutti quanti la propria esperienza e quasi tutti i writer alla fine hanno una seconda faccia ci sono tatuatori illustratori grafici fotografi fotografi quindi ci sono è un'arte che viene contaminata costantemente da tanti 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 altri input e noi quindi ci siamo un po' distaccati col passare del tempo da quello che era l'ambiente dei graffiti semplicemente che vi manca però ci manca Alessandro ti manca devo dire di sì ogni tanto facciamo qualche rimpatriata tutti quanti assieme però avevamo comunque necessità di nuovi stimoli perché comunque a lungo andare io personalmente ma credo anche Alessandro i graffiti avevano smesso di darci quello stimolo che ci ci dava la forza comunque di essere creativi nel quotidiano e quindi l'abbiamo dovuto evolvere in qualcosa di nuovo e questo nuovo Alessandro cos'è? cosa fate adesso? Cosa avete in serbo? Cosa uscirà dalla vostra non più cantina ma mai una volta c'era una cantina adesso basta ma già quello ci fa capire insomma i tempi sono cambiati no? Sono cambiati ma sono tempi ancora giovani giusto quindi cosa uscirà non ve lo possiamo dire ma vi dico che stiamo lavorando dai miei progetti e forse ci potrebbe anche essere una riscoperta dei graffiti in un altro mondo bene bene io prima domandavo se avete fatto qualcosa per la fashion week mi hanno detto no ma abbiamo un programma invece una cosa molto interessante per un'altra fashion day diciamo che però è molto molto più interessante della fashion week che vi va di raccontarmelo? Sì allora insieme alla nostra scuola io dico nostra perché è la scuola dove ho studiato io e altri due ragazzi di Just for Love che è Affol che nasce come centro per l'impiego milanese e poi negli anni ha aperto tutte le sue classi di formazione e ad oggi adesso da da un po' di anni comunque anche le classi di moda dove fanno sartoria modellistica product management fashion design c'è un po' di tutto e tramite loro che ci hanno selezionato come studio ci hanno dato la possibilità di partecipare alla fashion graduate che è questa sfilata che si terrà adesso tra il 22 e il 24 di ottobre al base Milano e noi insieme a tanti altri designer di tutto il mondo tutti studenti sfileremo con quattro outfit progettati da noi e realizzati dalle classi di sartoria dell'Affol quindi con una commissione completa voi avete pensato ma poi la realizzazione è andata agli studenti attuali ed è una cosa che comunque ci rispecchia molto e noi ci troviamo i vostri nipoti i vostri nipotini i vostri fratelli minori ci rispecchia perché comunque anche Affol ha un'ottica dell'educazione molto sul sul fare sul mettersi molto interessante perché spesso in Milano si c'è una città della moda e tutto però poi rimane tutto fermo al patinato alla fashion week grandi paroloni grandi epipeti e grandi nomi soprattutto invece per fortuna che allora insomma c'è spazio anche per c'è spazio Milano è una città che ti stringe molto ma sicuramente ti dà delle opportunità esclusive bene allora rimanete qui perché adesso mandiamo un po' di musica poi abbiamo qualche consiglio per gli acquisti a proposito di business come parlavamo prima ma poi torniamo e vi diamo anche tutti i contatti tutto insomma come fare a seguire meglio il lavoro di Just for Love e che continuiamo a chiacchiare appunto su questo mondo che era un mondo underground sempre di più sta diventando un mondo invece sopra venendo a galla ma ovviamente con le sue contraddizioni che però si porta dietro e forse insomma è anche il bello di questi mondi che non sono tutti così schematizzati come possiamo pensare di volere una vita schematizzata invece un po' di sana follia un po' di sano caos spesso e volentieri ci vuole un po' di musica 4, 2, 3 consigli per gli acquisti e poi torniamo qui sempre qua Cristian Radio Good Morning Milano Giovanotti il più grande spettacolo dopo il Big Bang spettacolo che insomma anche a Milano si può spesso e volentieri vedere nei murales nei graffiti insomma e poi lì c'è da capire quanto sia decoroso o meno in certi punti della città alcuni li chiamano arte altri li chiamano Imbrattamuri Imbrattamuri è brutto però è proprio brutto Imbrattamuri è veramente brutto ma vorrei farvi cadere l'occhio sui graffiti puliti che lì veramente sono dei rovinamuri che si mangiano via strati e strati di storia milanese sopra queste pareti storiche e infatti anche quello infatti le voci che sentite sono quelle di Diego Di Mauro e Alessandro De Santis cofondatori insieme ad altri giovani di Just For Love questo questo è veramente collettivo mi da chiamarvi scusate so che è un po' siamo la versione moderna di un collettivo è questo infatti è un po' desueto collettivo però nel senso ecco Creative Studio richiamate voi giustamente ma ci sta giustamente i tempi si immodernano e anche le definizioni giustamente vanno con loro parlavamo un po' appunto di come dall'underground si può poi salire e uscire la luce del sole e poi di come spesso e volentieri ci sono anche le due facce insomma si continua a volte alcuni fanno ancora graffiti altri sono magari dei tatuatori parlavamo così e tutto questo insomma viene spesso e volentieri anche mostrato poi sui social ormai sono fondamentali anche se so che mi dicevate prima voi siete il digitale meno possibile meno possibile digitale dovremmo essere a livello teorico dei nativi digitali però nel concreto forse dentro siamo più boomer che c'è della logica c'è della logica nel vostro dentro ma prima un altro fenomeno che sto notando e io lo collegavo in un certo senso adesso mi spiegate invece perché non dovrei collegarlo è quello di questi ragazzi spesso e volentieri molto molto giovani che si arrampicano su varie situazioni cittadine cantieri palazzi stazioni così per poi fare delle foto bellissime devo dire la verità dei video pazzeschi da in alto di questi spot come vengono chiamati loro io l'avevo sempre collegato un po' appunto anche al graffitto quello che è il writer che sale va su e fa il grande graffitto in alto invece non è proprio così soprattutto a Milano no è quello che dicevo prima appunto allora questa cosa viene fatta dagli anni 90 dagli anni 80 dai writer che appunto dipingevano per raggiungere lo spot quello che fanno loro si chiama urbex quello che fanno i writer si chiama graffiti ok e il graffitto spesso fatto in certi spot in alto in posti abbandonati comprende l'urbex ok dipende secondo me lo scopo con quale si fa e come dicevo appunto adesso questa cosa è molto più facile veloce documentare e pubblicarla secondo me è spettacolare quello che fanno questi ragazzi penso più giovani di noi sono molto molto giovani voi quanti anni avete? 22 ok sono molto molto giovani al limite della maggiorità spesso sono anche minorenni sì noi prima abbiamo separato le questioni perché per il nostro vissuto è una cosa che adesso ha fatto scalpore in particolare soprattutto dopo il selfie con la madonna a fianco sicuramente quello è stato un grande colpo per l'istituzione milanese è una cosa che a mio parere stiamo esportando molto dall'estero soprattutto dalla Francia in questo periodo ci sono in Francia molti writer invece l'abbiamo visto fare là quindi l'abbiamo importato in Italia lo abbiamo ripreso l'abbiamo ripreso perché sicuramente in Francia c'è invece una grande unione tra urbex e graffiti quindi con il fatto dei tetti calpestabili c'è proprio un'architettura diversa che lo permette cioè questi due mondi si uniscono molto di più a Parigi e Berlino si fa tantissimo questa cosa tantissimo se ci pensi che metà della stiera di Lupin è fatta sui tetti di Parigi con lui che ci cammina sopra effettivamente la voglia ti viene se tu prendi la metro a Berlino la sopraelevata vedi tutti i tetti dipinti tutti i tetti sì ci sono diciamo che rientra in tutto quello che è queste queste discipline metropolitane perché poi mi viene in mente anche il subway surfing i ragazzi che questa è una cosa che io in Italia non ho mai visto fare per ora se non casi sporadici sono questi ragazzi che si mettono cioè che scalano le metropolitane o i treni e vanno in corsa quindi rimangono sopra mentre il treni in corsa ok meno male che l'abbiamo visto in Italia è una cosa per fortuna che facciamo le gallerie basse così almeno non si fa questa stronzata scusate è un po' nel concetto dell'urbex questo qua adesso non è un pochino pericoloso mi viene da dire è pericoloso quello è il bello ah ecco da quel punto di vista è quello cioè la scarica d'adrenalina concretamente è innegabile dire che non sia pericoloso cioè si può fare tutto quanto con buon senso nella vita però ti stai comunque mettendo in una situazione in cui è giusto avere una certa cura e ieri il cuore della sera diceva però che c'è questo tema è illegale la cosa vengono appunto anche denunciati vengono fatti i processi e tutto ma sembra questo non essere un deterrente per niente come mai questi ragazzi non io penso che nella società ci sia una fissa un'ossessione di ciò che è legale che è illegale c'è sempre questa ossessione a dire questo si può fare questo non si può fare e siamo sempre lì a vedere questa cosa secondo me bisognerebbe un attimo uscire da questo schema e vedere le motivazioni non è facile una società come Milano con un 1.400 mili abitanti facciamo un po' tutto quel che ci pare le motivazioni umane per cui si fanno certe cose più che quelle di forma e di legalità ok ma qui non è solo voglia di comparire sui social voglia di fare qualche like probabilmente c'è anche quella componente Alessandro scuote la testa invece secondo me non voglio far sciogliere Just for Love vorrei che poi litigate potrebbe essere una componente diciamo Alessandro scuotevi la testa dimmi secondo me c'è molto altro cioè io facevo i graffiti me non li facevo per pubblicarli su Instagram o per l'adrenalina cioè a me per esempio l'adrenalina non fegava nulla era bello quando andavi in certi posti e ti rendevi conto che solo tu e pochi altri avevate calpestato quei binari avevate calpestato quei posti dove stai facendo quel graffito lì secondo me c'è una concezione molto simile di unicità del momento rispetto all'illegalità noi vediamo l'unicità come una cosa appunto l'ho posto poi su Instagram per fare il figo con gli amici anzi con tutto internet ma non è quello c'è l'unicità invece del dire io sono uno dei pochi che ha calpestato quel luogo che ha visto quel luogo che ha visto quel luogo da quel punto di vista che sono pazzeschi ho visto delle foto che sono qualcosa di stupendo diciamo che quando hai 15 anni ti sembra un po' di essere Armstrong che fa il primo passo sulla luna nel senso io sono il primo che è stato qua e uno dei pochi che calpesta questo posto per quanto sia lontano dal mio mondo l'urbex il selfie quello con a fianco la madonnina è una cosa che è impagabile chi è mai stato abbracciato la madonnina di Milano credo solo quello che l'ha fatta forse nessun altro nessun altro beh questo è come affrontare un tema è facile dire che sono solo dei deficienti che si arrampicano sui monumenti invece forse è qualcosa di più e quindi grazie invece a Just for Love che ci dà anche una visione diversa e che può essere interessante per comprendere meglio questo tema che sicuramente poi bisogna gestire perché insomma non è che possiamo essere fatti che ci arrampichiamo tutti qua e là però è una bel modo di vedere le cose senza invece subito andarci contro Imagine Dragon con Demons 8 e 51 minuti siamo arrivati alla fine praticamente non prima però di salutare Diego Di Mauro e Alessandro De Santis Just for Love e diteci anche come fare a seguire quello che fate insomma che fate una cifra di cose quindi Sì facciamo un sacco di cose se volete seguirci su Instagram ci trovate come Just4lovers e in generale adesso stiamo ampliando un po' i nostri social comunque su Instagram ci trovate e ci potete contattare in generale per qualsiasi cosa veramente qualsiasi cosa perché fate veramente tantissime cose Alessandro vero? Sì 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 Si 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 Abbiamo dentro il nostro laboratorio abbiamo una parte sartoriale quindi con delle macchine industriali per cucire una parte di allestimenti dove facciamo realizzazione di set design per eventistica e shooting fotografici per lo più e poi una stampa serigrafica quindi un laboratorio serigrafico dove stampiamo dentro dal tessuto la carta comunque poi ci occupiamo di grafica direzione creativa ci mettiamo un po' tutto quanto tutto quello che sappiamo fare insomma infatti siete tanti perché siete un bel numero siamo in cinque ogni tanto orbitiamo sui sei ma comunque abbiamo tutto un network di persone che ci gira attorno con la quale ci piace collaborare bene allora Just for Love trovate su Instagram just4lovers grazie Diego grazie Alessandro alla prossima grazie a voi voglio sentirvi quando poi fate la sfilata dei graduate voglio vedere le vostre creazioni va bene va bene grazie mille andiamo con l'ultima canzone poi ci ritorniamo qui solo per i saluti finali perché sono già le 8 e 53 è tardissimo oggi 8 e 56 minuti in ritardo sulla tabella di marcia siamo comunque arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano eh sì non c'è un giorno che arrivo giusto in orario alla fine però io chiedo scusa chiedo perdono al buono Ambrogio Curti che viene dopo di noi con Senti Quest sicuramente grande musica anche oggi e grandi storie legate alla musica che Ambrogio tutti i giorni ci racconta qui alle 9.05 su Crystal Radio dopo il giornale radio e se invece volete riascoltare rivedere anche qualcosa di quello che è successo qui in studio beh è facilissimo goodmorning.milano.it oppure c'è anche il podcast su Spotify insomma non c'è modo di perderci se volete trovarci tranquillamente anche sui social con ad esempio il nostro profilo Instagram ma anche Facebook ma anche LinkedIn insomma siamo veramente ovunque stiamo lavorando anche per il profilo Tinder e ve lo dico ah ovviamente ho dimenticato YouTube siamo anche lì ci mancherebbe e in diretta ci ritrovate tutti i giorni dalle 7.09 qui su Crystal Radio questa è Good Morning Milano le voci che avete sentito oggi sono quelle di Diego di Alessandro di Fabio Ranfi qui dietro il microfono e in regia Beatrice pronta guarigione auguri a Ginevra invece che a casa ammalata ti aspettiamo a domani ciao ciao